Come si può pensare di togliere uno strumento senza avere qualcosa che ne prenda il posto, che lo sostituisca? Non lo so, ma mi sembra una cosa così ovvia che è. E' Archetipus, associazione di promozione sociale con sede a Tegoleto, a richiedere a gran voce uno strumento sostitutivo dei voucher, proprio in vista della loro abolizione. I voucher erano infatti utilizzati dall'associazione per pagare alcuni operatori che svolgevano un'attività di supporto agli insegnanti di sostegno all'interno di un istituto scolastico in Valdichiana. Noi abbiamo riscontrato un problema che inizialmente ci sembrava insormontabile e non sapevamo se era possibile risolverlo. Fortunatamente nel nostro caso è stato risolto, risolto pienamente grazie alla sensibilità della preside, la signora Yasmina Santini, che comunque ci è venuta incontro, rinunciando magari ad altra progettualità, per continuare il progetto insieme a noi, fino alla fine della scuola. Quindi noi siamo stati fortunati. Il grande danno, secondo noi, che ha provocato il togliere il voucher, quando il voucher ovviamente era usato in maniera dignitosa per il lavoratore e per la persona, come nel nostro caso. Veniva dato il massimo ad ora, quindi veniva usato molto bene, molto bene, in maniera più che dignitosa. Se la scuola non avesse agito così, in maniera così sensibile, diciamo, alle problematiche non nostre, ma alle problematiche dei minori, perché la sensibilità è stata per i bambini, non per l'archetipus o per gli operatori, voglio dire che in un modo o in un altro sono persone adulte, ma è stata per i minori. Quindi se non ci fosse stato questo, noi ci saremmo trovate nell'impossibilità di continuare il nostro operato. Noi chiediamo che tutti quelli che si sono trovati, più che altro che si trovano in una situazione di difficoltà, a parte noi che l'abbiamo risolta, noi siamo al loro fianco e se hanno bisogno del nostro supporto, noi le bandiere le alziamo, insomma.